Bene ragazzi, oggi vi voglio mostrare la prova di pagamento di Recyclics dunque, che io sono arrivato a 30 euro prelevabili, cioè i 10 minimo più altri 10 li ho raggiunti investendo di tasca mia, oltre i 20 euro forniti da Recyclics, 150 euro dunque, dunque, ora andiamo a, aspetta, no, prima ricapitolando, questo è Recyclics qui si acquista, qui si vende e o si ricicla, naturalmente è sempre consigliabile fare ricicla sia qui che riavvia quando finisci il ciclo che dura 5 settimane è sempre fatto, è sempre consigliabile farlo per più di 3 cicli quindi 5 settimane per 3, quindi sono 15 settimane dopodiché valutate bene, facendo i conti, se con quello che andate a vendere e quello che avrete guadagnato, cioè il 15% sulla cifra investita nei vari investimenti il 14% della cifra investita riuscirete a guadagnarci senza andare in perdita dunque, poi, poi, ah, qui c'è che non so se volevo spiegare bene la parte dei partner questa qui, allora qui in questa schermata voi avete diversi link, cioè no, un link però diversi modi con cui condividere questo link con i vostri amici in pratica voi date questo link ai vostri amici, loro si registrano si registrano e diventano vostri partner di primo livello dopo che sono diventati partner di primo livello voi, da tutti i loro investimenti cioè i loro investimenti cioè dai loro investimenti depositati da loro, non da quello gratuito voi avrete il 10% per ogni ciclo questi, gli altri livelli sono cioè in pratica loro danno il loro link ad altre persone e voi, da queste altre persone, avrete il 3% e così via, naturalmente queste persone lo daranno ad altre persone e voi avrete il 2% e queste persone lo daranno a delle altre persone sempre, cioè in pratica i loro link cioè queste persone daranno il loro link a questa persona e questa persona e queste persone daranno il link a queste altre persone e questa è la fine della, diciamo, possiamo chiamarlo albero possiamo chiamarlo cadena, possiamo chiamarla quello che volete come volete comunque questa è la fine e voi, da tutti questi livelli avrete questa, solo, esclusivamente questa percentuale per ogni ciclo dei loro investimenti e ci sono tanti modi c'è Whatsapp c'è Whatsapp c'è questo, che non so cosa sia c'è Facebook c'è Mail c'è Google+, c'è Via Telefono banner banner per il sito c'è da sbizzarrirci, diciamo ecco e spero che voi vi iscriviate dal mio link e che incominciate a a investire anche magari anche cioè io spero anche anche piccole cifre da parte vostra se no continuate solamente con quella regalata da Recycris ora vi dimostrerò che il sistema funziona e paga c'è il le varie unità da comprare e Forklift e altre acquistare unità di Stockline e e altre cose e Worsha e Granoli e man mano che naturalmente saranno solo sbloccabili dopo i 5.000 kg dopo che avrete acquistato i 5.000 kg in maniera base cioè da qui da qui dopo che avrete esaurito questi 5.000 kg potrete comprare quelle e varie azioni che vi permetteranno di guadagnare se ci sono domande fatemelo sapere se magari ho sbagliato a dire qualcosa e e ora andiamo al solo e ritirare io per me ah ritirare sia per ritirare che per depositare ci sono diversi modi white transfert e rimedi questo rinserisce nel conto cioè eh aumenta il vostro capitale per quanto riguarda eh la compra eh il comprare altri eh altri rifiuti il paypal e il eh bitcoin vedete ok io eh andrò sul paypal o paypal come si vuole dire avrete una commissione di del 3 per cento 3,5 per cento eh è una prova di pagamento perché francamente non so esattamente se faccio bene o faccio male eh credo che eh che darò eh che darò eh 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 credo che eh 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 metterò il la prova di pagamento nel solito video e eh cioè lasciando eh fai accolandolo dopo questo video qua eh vediamo un po' eh eh devo cliccare qua eh vediamo un po' ah ok allora ho sbagliato vediamo un po' ok vediamo un po' ok vediamo un po' Ok Ma ancora... Riproviamo è la prima volta che lo faccio quindi ok il pagamento è stato effettuato con successo dunque scusate se mi sono un po' impappinato sia su questo che su altre cose a parlare spero che mi vogliate seguire i soldi appunto sono spariti da qui spero che siano arrivati sul mio conto paypal e vediamo un po come vi ho detto entro pochi pochi secondi da quando ho finito di parlare dovrebbe cominciare vedere se effettivamente paga quanto ci mette a pagare e appunto guardate bene l'orario e la data in cui in cui ho richiesto il pagamento io spero che quando ritornerò in questo video avrò buone notizie che avrò ritirato i soldi appunto va bene grazie arrivederci bene noi abbiamo fatto richiesta di ritiro di 30 euro dal nostro conto questo dal nostro saldo l'11 marzo 2016 alle 11.27 come potete vedere è diventata la richiesta è diventata verde perché risulta pagante infatti se io vado sul mio conto paypal voi troverete 28 e 95 perché non 30 perché allevate il 3,5 per cento come c'è scritto qua al momento questa ditta risulta pagante spero che continui naturalmente comunque voi investite solo ed esclusivamente quello che siete eventualmente disposti a perdere perché non si sa mai se questa società magari da un giorno all'altro smette e perdiamo tutti i soldi però al momento sia da parte mia che da parte anche di altri utenti abbiamo solo esclusivamente riscontri positivi negativi no a me ci è voluto un po' a riscuotere poco più di un giorno comunque vediamo magari se ci sono riscontri finché paga io penso che non farò più un una prova di pagamento però se invece risultarsi non pagante la faccio faccio un video e così almeno siete avvisati di non investirci più va bene ok io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto seguitemi lasciate un mi piace e magari investite anche voi tramite registrandovi tramite il mio link e investite naturalmente poco o comunque quello che siete disposti a investire va bene vai ciao al prossimo video ciao